Ah la voce, la voce, la voce umana, la voce che c'è, la voce che non c'è, Jean Coucteau con la voce. Allora, no, non sono impazzita, è che mi è appena tornato in mente il fatto che a gennaio, il primo gennaio, ho ripreso i tre minuti grezzi dopo una pausa di un anno, quindi ho iniziato la seconda serie, che adesso sta per terminare, circa una settimana e mezzo dopo l'inizio, mi è mancata la voce, mi è andata via la voce a causa di una brutta faringite, sono rimasta circa un mese senza voce e quei giorni, se tornate indietro nelle puntate, dalla puntata circa 370 e qualcosa in avanti, adesso non mi ricordo, non ho voglia di andare a guardare, avevo prima cominciato a registrare con la voce cavernosa così, poi quando proprio ho perso, perso, perso la voce e me ne è rimasta un filo nemmeno, ho usato per un po' di tempo una voce artificiale, dove io scrivevo il testo e poi con un programma avevo una voce artificiale che leggeva il mio testo. Sì, perché ve lo sto dicendo? Perché oggi, anzi ieri, ha cominciato a tornare la faringite, sì, brucia la gola, non ho tosse, non ho febbre, non ho nessun altro sintomo, però siccome è una cosa che mi viene da tempi in memory, è una vita che, cioè, riconosco subito i segnali, e quindi questi tre minuti di soliloquio sono più o meno l'unico momento della giornata in cui ho parlato, infatti ho disdetto anche appuntamenti che avevo con mio grande dispiacere perché dovevo vedere un'amica e mi faceva molto piacere vedere questa amica, però so che, a parte le inalazioni, garganismi e vari spruzzamenti di varie cose, l'unica cosa che veramente mi aiuta è stare in assoluto silenzio. Sto parlando da un minuto, da due minuti, e già sento la gola che mi si sta restringendo, oddio. Quindi, adesso smetto, anche se non siamo ancora arrivati a tre minuti, perché devo preservare le mie corde vocali. Vado a fare delle inalazioni col vapore, che vanno molto molto bene, perché, boh, meglio che bere acqua, anche se bisogna anche bere acqua. Passo e chiudo, che sento la voce che mi va via. Grazie. Grazie.